Una centrale operativa con tutti gli occhi sulla città, anche perché ultimamente ci sono stati degli atti vandalici che le telecamere hanno contribuito a soprire i responsabili. La convivenza civile è il primo obiettivo di qualunque comunità. La buona collaborazione fra istituzioni, in particolare prefetture e comuni d'imperie, ha reso possibile un protocollo d'intesa che garantirà sicurezza alla convivenza della nostra popolazione. Anche diversi atti che già nel recente passato di carattere vandalico e non solo sono successi sono stati risolti anche con l'ausilio delle telecamere. Così sarà ancora nel futuro. Questo significa che una città deve essere più bella, più ordinata, più accogliente, ma deve essere più sicura. Questo è uno strumento per raggiungere questo obiettivo.